Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, oggi vi farò vedere un'apertura veramente stupenda che il più delle volte vi farà vincere in poche mosse. Gli avversari non sono quasi mai preparati e anche se dovessero esserlo devono conoscere delle linee veramente difficili, linee veramente pazze, per potersi difendere. Prima di iniziare ricordo a tutti di iscriversi al canale, lasciate un mi piace al video, stiamo crescendo veramente molto in fretta, grazie a tutti quanti e iniziamo. Dopo e4, e5, cavallo f3, come ben sapete la mossa più giocata qui è cavallo c6 e io consiglio di continuare con alfiere c4. In questa posizione vi ho già dato un'apertura estremamente pericolosa che è il gambetto italiano, dopo alfiere c5 abbiamo detto d4. Se non avete visto il video andatevelo a recuperare perché è veramente fantastico. Oggi vediamo un'altra risposta molto comune da parte del nero che è cavallo f6. Molti di voi mi hanno chiesto e se l'avversario mi gioca cavallo f6 cosa devo fare? Ebbene sì, esiste anche in questo caso un'apertura veramente incredibile che quasi sempre risulta letale per il vostro avversario. La mossa che consiglio di giocare qui è d4. Vi assicuro che dopo questa mossa il nero può perdere anche in poche mosse. Vediamo infatti cosa succede dopo cavallo per d4. In questo caso abbiamo già vantaggio dopo sole 4 mosse con alfiere per f7. Ovviamente re per f7 forzata, segue cavallo per e5, attacchiamo il re, riprendiamo subito indietro il pezzo. E dopo ad esempio re 8 giochiamo donna per d4, il nero non può più arroccare, abbiamo un pedone in più e direi che la partita è già finita. Chiaramente il nero può ancora cercare di riprendere indietro il pedone con donna e7, ma qui giochiamo semplicemente cavallo d2 difendendo il pedone in e4 e a questo punto il nero è nei guai. Quindi questa variante non è buona. Dopo pedone d4 il nero può provare anche a giocare cavallo per e4, ma nemmeno questa è granché a dire la verità. Infatti qui proseguiamo con pedone per e5 e ora una cosa veramente sorprendente, come potete vedere la mossa più giocata in questa posizione da parte del nero è alfiere c5 e il bello è che abbiamo subito partita vinta dopo donna d5. Il nero chiaramente può attaccare f2, ma il nostro attacco è più forte. Ad esempio alfiere per f2, possiamo giocare re 2 e come vedete stiamo minacciando scaccomato in f7 con la donna, stiamo attaccando il cavallo in e4 e stiamo anche attaccando l'alfiere in f2. Non c'è nessuna difesa per il nero, il nero deve per forza arroccare e noi proseguiamo con donna per cavallo. Quindi come vedete potete sorprendere il vostro avversario dopo poche mosse e avere subito partita vinta. Ritornando alla posizione dopo d4, qui l'unica mossa buona da parte del nero è quella di catturare di pedone. A questo punto io consiglio la mossa arrocco mettendo il re al sicuro e dopo alfiere c5 rientriamo nell'attacco max lang. A questo punto la mossa che dobbiamo giocare è pedone e5. Vi mostro quanto è pericolosa questa variante. Stiamo attaccando il cavallo, ma le mosse di cavallo sono tutte sbagliate. Ad esempio vediamo subito cavallo e4, qui proseguiamo con donna e2. Il nero deve per forza difendere il cavallo in qualche modo, l'unica mossa è d5. Proseguiamo con empassant. E ora il cavallo di nuovo è attaccato, il nero può difenderlo con il pedone o con l'alfiere. Vediamo cosa succede se lo difende con l'alfiere, con l'alfiere f5. Possiamo semplicemente continuare con cavallo d2 e alla prossima mossa guadagniamo un pezzo. Infatti non c'è modo per il nero di difenderlo. Invece in questo caso se dovesse difendere di pedone possiamo proseguire con l'alfiere g5 attaccando la donna e dopo donna per d6 giochiamo cavallo d2 mettendo pressione sul cavallo in d4. Vi assicuro che qui abbiamo già posizione vinta, il motore ci dà più 5.7 di vantaggio e vediamo le mosse migliori per il nero. Il nero qui l'unica mossa buona che ha è donna g6 cercando di difendere il punto in e4 arriva a torre e1 aumentando la pressione sul cavallo e ora il problema del nero qui è che non può arroccare come potete vedere. Quindi abbiamo posizione completamente vinta. Ad esempio re f8 continuiamo con cavallo per e4 e dopo pedone per e4 cambiamo tutto, rientriamo in questa posizione che è completamente vinta per il bianco. Ritornando quindi alla posizione con e5 vediamo un'altra mossa di cavallo che è cavallo g4, qui consiglio di giocare alfiere f4 difendendo semplicemente il pedone e minacciando pedone h3 per attaccare il cavallo. Dopo arrocco da parte del nero giochiamo h3, l'unica mossa ora disponibile per il nero è cavallo h6, segue alfiere per h6 e dopo pedone per h6 come potete vedere abbiamo indebolito l'arrocco del nero, il re è allo scoperto e il nero è indietro con lo sviluppo. Vi assicuro che in questa posizione rischia veramente tanto, ad esempio noi possiamo continuare con c3 e dopo pedone per c3, cavallo per c3, qui stiamo preparando un attacco molto forte. La nostra idea è quella di giocare cavallo e4, cavallo f6. Vediamo infatti ad esempio dopo d6, cavallo e4 attaccando l'alfiere e minacciando cavallo f6, il nero deve salvare l'alfiere giocando alfiere b6 e qui possiamo continuare con cavallo f6 scacco. Ora qui la mossa più giocata come potete vedere è re h8 da parte del nero, ma il problema di questa mossa è che dà al bianco una percentuale di vittoria del 91%, incredibile. Re h8 infatti segue la mossa donna d3 e con donna d3 stiamo preparando scacco matto. A questo punto il nero non può fare assolutamente niente, il nostro attacco è imparabile, deve per forza dare la donna in f6, ma dopo pedone per f6 abbiamo semplicemente la donna in più e abbiamo partita vinta. Ritornando quindi alla posizione dopo e5, unica mossa buona per il nero qui è giocare pedone d5. A questo punto noi catturiamo il cavallo e dopo che il nero cattura l'alfiere continuiamo con torre 1 scacco. Il nero ha una sola possibilità che è alfiere e6 e io qui consiglio la mossa cavallo g5. La posizione è molto complicata, il nero ha tante opzioni ma sono tutte sbagliate tranne una. La cosa impressionante qui è che come potete vedere la mossa più giocata è donna per f6. Ma il problema di questa mossa è che il bianco vince all'istante, quindi incredibile ragazzi, donna per f6 perde subito. Segue cavallo per e6, dopo pedone per e6, donna h5, diamo scacco e minacciamo di catturare l'alfiere in c5, quindi il nero non può fare assolutamente niente. Ad esempio g6, donna per g5, abbiamo guadagnato un pezzo e la partita è da abbandono. Ritornando quindi alla mossa dopo cavallo g5, cosa può fare qui il nero? Vi assicuro che non è per niente facile, sono quasi tutte perdenti le mosse. Ad esempio vediamo pedone per f6, qui proseguiamo di nuovo con lo stesso tatticismo, cavallo per e6 e dopo pedone per e6, donna h5 scacco, re d7, donna per c5. Guadagniamo di nuovo un pezzo, quindi in questa posizione il nero può continuare anche in altri modi, ad esempio può arroccare, ma questa peggio che mai, anche questa perde subito dopo la mossa pedone per pedone. Il nero qui ha due possibilità, può catturare di re, ma segue torre per e6 e la partita è da abbandono, perché? Perché semplicemente abbiamo guadagnato un pezzo, perché dopo pedone per e6 segue cavallo per e6, stiamo dando scacco per poi guadagnare la donna, quindi come vedete questa apertura è veramente micidiale ragazzi. Vi faccio vedere ancora altre varianti dopo cavallo g5, ad esempio vediamo la mossa donna d7, nemmeno questa funziona perché dopo pedone per g7, torre g8, cavallo per e6, pedone per e6 e segue lo stesso tatticismo con donna h5 e guadagniamo un pezzo, semplicemente. Quindi ritornando a cavallo g5, abbiamo visto quasi tutte le varianti, vediamo cosa succede con donna d6, nemmeno questa va bene, continuiamo sempre con lo stesso piano, è molto simile a prima, qui catturiamo il pedone, torre g8, donna h5 scacco, dopo re d7 giochiamo cavallo d2. Ora con cavallo d2 stiamo minacciando cavallo e4, dando il doppio a donna e alfiere per guadagnare un pezzo, l'unica mossa buona per il nero qui è giocare alfiere b4, ma a questo punto giochiamo di nuovo cavallo e4 attaccando la donna, il nostro attacco è semplicemente troppo forte in questa posizione. Dopo donna e7 ad esempio giochiamo alfiere g5, continuando ad attaccare la donna, e dopo donna per g7, cavallo f6 scacco, re d6, pedone c3 attaccando l'alfiere, ovviamente come vedete la torre qui è in presa, però prima attacchiamo l'alfiere, dopo pedone per c3, torre d1 scacco, re c5, il re del nero è semplicemente troppo esposto e possiamo dare scacco matto con alfiere e3. Quindi come vedete le varianti sono veramente incredibili, potete sempre attaccare praticamente. Ora su cavallo g5 vediamo ora una mossa che apparentemente regge, questa effettivamente è una mossa buona, donna d5, a questo punto possiamo giocare cavallo c3 e vi assicuro che abbiamo lo stesso un grosso attacco in questa posizione. Chiaramente il nero non può catturare il cavallo, altrimenti perde la donna, quindi in questa posizione deve giocare donna f5, noi proseguiamo con cavallo e4 attaccando l'alfiere, il nero arrocca e noi qui giochiamo la mossa g4. Stiamo preparando un'altra trappola e iniziamo subito a vedere cosa succede se il nero dovesse accettare il pedone, ad esempio donna per g4, proseguiamo con donna per g4 e dopo alfiere per g4 cavallo per f7, dando il doppio alle torri con posizione vinta. Quindi dopo pedone g4 il nero non può catturare il pedone, vediamo altre mosse ad esempio donna d5, anche questa non è buona, segue pedone per g7, torre g8, cavallo f6, dando il doppio a torre donna, donna d6 e qui giochiamo un'altra mossa di cavallo che è cavallo e4. Ci possiamo veramente divertire in questa variante. Donna e7, cavallo per torre, torre per cavallo e alfiere g5. A questo punto il nero deve giocare ad esempio donna e8, perde anche un altro pezzo, catturiamo l'alfiere e abbiamo partita vinta in questa posizione. Dopo pedone g4 allora l'unica mossa buona per il nero è giocare donna e5, ma questa mossa vi assicuro che è difficile da trovare perché c'è anche la torre che attacca la donna a raggi x, ma anche se la dovesse giocare noi proseguiamo con cavallo per alfiere e dopo pedone per giochiamo pedone per g7. A questo punto dopo torre g8 possiamo giocare alfiere h6. Ora come potete vedere abbiamo un fortissimo pedone passato in g7 prossimo alla promozione. Il nero deve giocare in maniera molto accurata per reggere in questa posizione, ma anche se trova le mosse migliori il bianco sta meglio. Ad esempio proviamo a giocare le mosse migliori del nero, d3, noi giochiamo c3, torre d7, cavallo per c5, donna per c5, donna f3. Potete divertirvi ad analizzare da soli questa posizione, vi ho fatto vedere le mosse migliori, ma vi dico che nessuno con i pezzi neri è riuscito ad arrivare fino a qui. Quindi non vi capiterà praticamente mai questa posizione. Ora torniamo alla mossa critica dopo cavallo g5, in questa posizione. La mossa migliore del nero sembra essere pedone g6, non è quasi mai stata giocata perché è una mossa controintuitiva, ma vediamo cosa dobbiamo fare in questo caso. Qui proseguiamo con donna f3, attaccando l'alfiere in e6, quindi stiamo minacciando cavallo per alfiere. A questo punto il nero deve arroccare, noi proseguiamo con torre per e6, arriva il sacrificio di qualità e vi assicuro che il nero di nuovo deve essere molto preparato. Chiaramente qui pedone per e6, pedone f7 scacco, re h8, cavallo per e6, donna e7 unica mossa, alfiere g5 attaccando la donna e minacciando alfiere f6, quindi qui il nero di nuovo per forza deve catturare il pedone di donna, arriva cavallo per c5 e rientriamo in questa variante tutta forzata dove a gioco corretto è pari, dopo donna per f3, pedone per f3, torre per f3, cavallo d2 attaccando la torre, torre f5, cavallo e4, torre 8, alfiere f6 scacco, re g8 e pedone c3. Ora questa posizione è pari ma con grosse chance per il bianco secondo me, comunque fatto sta che quasi nessuno rientrerà in questa variante a meno che non abbia visto questo video, ma anche se dovessero rientrarci avete tutta la partita da giocare. Per questo video è tutto, grazie a tutti per la visione, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettete mi piace al video, ciao e alla prossima! Grazie a tutti!